Giorgia Meloni e l'Ucraina perché salta fuori pure la questione del reggito di cittadinanza relativamente alla guerra in Ucraina io leggo una potentissima notizia sul fatto quotidiano e questa potentissima notizia ve la metto come link nel riassunto di questo video sentiamo la potentissima notizia Giorgia Meloni dice ai 5 Stelle come convinciamo i russi a ritirarsi con il reggito di cittadinanza? punto di domanda allora vediamo Giorgia dice tutti vogliamo la pace ma voi 5 Stelle sembrate avere delle soluzioni che io Giorgia Meloni non ho quindi aiutatemi voi 5 Stelle a capire cosa intendete quando dite che volete i negoziati per la pace spiegatemi questi contenuti per la pace cioè l'Ucraina deve arrendersi per ottenere la pace? oppure voi 5 Stelle chiedete l'immediato ritiro dei russi allora diteci come possiamo convincere i russi a ritirarsi possiamo proporre loro un reddito di cittadinanza per le truppe russe oppure dobbiamo chiedergli dobbiamo concedergli ai russi i territori che si sono annessi eccetera 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 sì Giorgia Meloni la premier Giorgia Meloni rivolge queste domande ai pentastellali però sarebbe meglio che la premier Giorgia Meloni queste domande le rivolgesse a Serafino Massoni Serafino Massoni è questo signore qua è questo signore qua eccolo qua lo vedi Giorgia Meloni chi è Serafino Massoni guarda è scritto qua script amanent è verba volat vedi Giorgia Meloni qua c'è scritto tutto insomma tutto le cose essenziali relativamente a Serafino Massoni guarda che Serafino Massoni tra le altre cose è stato anche preside di ruolo nei licei classici scientifici non è mica facile diventare preside di ruolo nei licei classici scientifici Giorgia Meloni la vedi questa? la stella di Davi Giorgia Meloni a te piace vero la stella di Davi? è stella di Davi vuol dire Stato di Israele Stato di Israele vuol dire ebrei dire ebrei vuol dire anche dire Shoah e dire Shoah vuol dire 5-6 milioni di ebrei europei portati prima nei lager poi nelle camere a gas e poi nei forni crematori e adesso vediamo che cosa c'entra la stella di Davi nel discorso sarebbe stato meglio Giorgia Meloni che tu queste domande che hai rivolto il movimento Vinta Stellato le rivolgessi a Serafino Massoni che è stato anche professore di filosofia e storia nei licei classici scientifici tu dici Giorgia Meloni ma che facciamo? dobbiamo consentire ai russi di tenersi al Donbass e la Cremea per arrivare al tavolo della pace? Giorgia Meloni senti un po' Giorgia Meloni ma tu lo sai che tra le varie regioni italiane c'è anche una regione a statuto speciale che si chiama Trentino Alto Adice Alto Adice lo sai? lo sai Giorgia Meloni che abbiamo l'Alto Adice e regione a statuto speciale Trentino Alto Adice ma tu lo sai Giorgia Meloni che quello che noi chiamiamo Alto Adice per gli austriaci si chiama Sud Tirolo è il Sud Tirolo perché in Austria c'è il Nord Tirolo e il Sud Tirolo e il Nord Tirolo ci sta ancora in Austria ma il Sud Tirolo ce lo siamo presi noi Giorgia Meloni lo sai che ce lo siamo presi noi il Sud Tirolo? lo sai che il Tirolo era la patria degli Asburgo e noi con la prima guerra mondiale ce lo siamo presi noi è il Sud Tirolo è il Sud Tirolo che è l'Alto Adice noi lo chiamiamo l'Alto Adice ma gli austriaci lo chiamano il Sud Tirolo è la patria degli Asburgo e ce lo siamo presi con la guerra ce lo siamo presi con la guerra quello che è l'Alto Adice che per gli austriaci è il Sud Tirolo è fatto di tedeschi c'è gli austriaci di tedeschi che fanno la lingua tedesca mica erano contenti questi qua di venire da noi di venire con l'Italia stavano meglio con l'Austria lo sai lo sai che stavano meglio con l'Austria noi ce lo siamo portati via l'Alto Adice il Sud Tirolo ce lo siamo portati via con le cannonate con la prima guerra mondiale capito? capito? e se fa così si fa però come facciamo a tenercelo buono noi l'Alto Adice il Sud Tirolo comunque come facciamo a tenerci di buoni quelli della regione Trentino-Alto Adice come facciamo a tenerli buoni cioè a impedire le loro proposte separatiste separatiste perché fino all'altro ieri fino all'altro ieri volevano tornare con l'Austria come facciamo? abbiamo fatto regione a statuto speciale che cosa vuol dire Giorgia Meloni regione a statuto speciale? soldi soldi vuol dire soldi le regioni a statuto speciale prendono il doppio delle regioni a statuto ordinario soldi 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 quattrini le regioni di confine che tendono a staccarsi noi li teniamo buoni coi soldi coi soldi coi soldi hanno forse fatto così a Kiev? il presidente Zelensky quelli del Donbass dell'Ucraina ha cercato di tenerli buoni coi soldi come facciamo noi come facciamo noi con Trentino-Alto Adice la Valle d'Aosta la Friuli-Venezia-Giulia ma anche con la Sicilia e con la Sardegna perché anche la Sicilia tende a scappare per conto suo anche la Sardegna tende a scappare verso la Catalogna anche la Valle d'Aosta tende a scappare verso la Francia una volta la Aosta c'era la Savoia c'era la Savoia e lei di Savoia faceva parte dell'Italia e poi l'abbiamo ceduto ai francesi ai tempi della Seconda Guerra di Dipendenza 1859 l'imperatore Napolese III e questa è la storia ma guarda che io sono stato professore di filosofia e storia di disegni classici scientifici guarda che Giorgia Meloni io ti posso dare lezioni di storia di storia te le do grazie Giorgia Meloni te le do grazie volentieri Giorgia Meloni capito? e allora e allora perché perché Zeresky chi è perché Zeresky e chi è sapendo sapendo Zeresky nel Donbass vogliono andare con la Russia in Crimea vogliono andare con la Russia perché Zeresky non ha fatto come facciamo noi italiani perché non ha detto a voi del Donbass a voi della Crimea noi di Kiev vediamo il doppio dei quattrini il doppio dei quattrini così state buoni così state buoni quando non si vuole fare la guerra si mettono si mettono le mani nel portafoglio nel portafoglio hai capito Giorgia Meloni io ti faccio la storia Giorgia Meloni ti faccio la storia e poi Giorgia Meloni ha detto che tu recentemente hai condannato le leggi razziali del 1938 che erano delle leggi contro gli ebrei mi vuoi spiegare Giorgia Meloni la domanda te la faccio io mi vuoi spiegare tu Giorgia Meloni perché lo Stato di Israele dove ci stanno 7-8 milioni di ebrei mi vuoi spiegare tu Giorgia Meloni perché lo Stato di Israele non gliele manda le armi all'Ucraina per cui il presidente Zeresky continua a lamentarsi perché il presidente Zeresky dice perché tutto Stato di Israele non mandi le armi a noi dell'Ucraina per difenderci contro i russi e Giorgia Meloni per quale motivo lo Stato di Israele eccolo qua lo Stato di Israele di Giorgia Meloni per quale motivo lo Stato di Israele non ha mai mandato non manda e mai manderà armi all'Ucraina ci sarà un motivo eppure lo Stato di Israele è uno stretto stretto strettissimo alleato degli Stati Uniti d'America e beh facciamo pure noi come lo Stato di Israele Giorgia Meloni facciamo anche noi smettiamo di mandare armi all'Ucraina se se lo Stato di Israele non manda armi all'Ucraina facciamo anche noi come lo Stato di Israele ma smettiamo di mandare armi all'Ucraina tu sei sovranista e rivendica rivendica in questo campo la sovranità dell'Italia Israele rivendica la propria sovranità eppure essendo una stretta alleata degli Stati Uniti d'America Israele non manda e non mai manderà armi all'Ucraina facciamo anche noi come lo Stato di Israele hai capito? Certe domande invece di rivolgerli ai pentartellati Giorgia Meloni tu le devi rivolgere a Serafino Massoni Serafino Massoni conosce le risposte Giorgia Meloni Serafino Massoni conosce le risposte perché Serafino Massoni ha scritto tanti libri tanti libri questo è l'ultimo libro di Serafino Massoni cara Giorgia Meloni vedi è un romanzo storico ambientato tra il 1200 e il 1250 dopo Cristo Giorgia Meloni se tu Giorgia Meloni mi fai pervenire il tuo preciso recapito postale io Serafino Massoni ti farò pervenire a mie complete spese una copia della cometa dell'imperatore ok Giorgia Meloni io te voglio tanto bene Giorgia Meloni sai per cui a te Giorgia Meloni e a tutti voi tanti cari saluti da la cometa dell'imperatore Giorgia Meloni Giorgia Meloni Giorgia Meloni